Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Sono sostenuti dall'Iran e stanno assaltando, abbiamo anche qui la cartina, soprattutto adesso da quando è cominciato il conflitto a Gaza, le navi mercantili e commerciali che vanno nel Mar Rosso per attraversare il canale di Suez e arrivare poi in Europa. Quindi una rotta fondamentale tra Asia e Europa. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sono passati i 100 giorni circa dall'attacco di Hamas, dal pogrom in Israele, la guerra di Gaza è tutt'altro che finita, addirittura si lanciano ancora razzi da Gaza contro Israele, ma soprattutto è diventata una guerra regionale perché si combatte in Iraq dove ci sono stati molti attacchi che hanno coinvolto anche americani, la Siria, lo Yemen e questa particolarmente pericolosa appendice marittima perché come tu ricordavi il Mar Rosso è la vena giugolare che congiunge il Mediterraneo all'Oceano Indiano, all'Oceano Pacifico, insomma tutte le rotte Asia e Europa, quelle che si fanno normalmente passano di lì. Per noi, per un paese marittimo che dipende largamente dall'energia che deve importare, dalle merci che deve esportare, questo è molto grave. I costi naturalmente dello shipping aumentano vertiginosamente, siamo tornati in ere precolombiane a fare il periplo dell'Africa e tutto questo però in un contesto che è fuori controllo. Quello che colpisce di questa guerra è che allargandosi, come spesso accade quando le guerre si prolungano, non c'è più nessuno in grado davvero di fermarla. L'operazione anglo-americana è un classico, cioè americani e inglesi di fronte a una provocazione come quella degli Houthi che vogliono più che occuparsi dei palestinesi, di cui si occupano poco, vogliono farsi valere come potenza regionale riconosciuta, non poteva essere tollerata perché mette appunto in pericolo l'economia globale. Gli Houthi sono sostenuti dall'Iran, ma non è che siano proprio Hezbollah, è una cosa un pochino più complicata, ma soprattutto è interessante vedere che questa operazione l'hanno fatta solo gli inglesi e americani, cioè gli europei della Nato no. Gli europei della Nato no, l'Italia ha detto che è stata avvertita, ma che appunto non aderiva a questa operazione, è stata avvertita, sì l'Italia lo dice Tajani. In genere ci avvertono quando è cominciata. Ah, quando è cominciata. Va bene, quindi noi non è che giochiamo al ruolo in questo? No, diciamo che sicuramente non giochiamo per l'escalation, anche perché onestamente non avremo nemmeno i mezzi. Eh, Beppe...